Antonella Fiordelisi ha fatto delle affermazioni molto pesanti su Mikolin Corvaia, in riferimento al flirt avuto in passato con Edoardo Donnamaria. La Fiordelisi, nella casa del grande fratello Vip, ha esternato la sua gelosia nei confronti dell'ex del suo ragazzo, rivelando dei particolari intimi che lui le ha raccontato sotto le coperte. Ebbene, le dichiarazioni di Antonella hanno sollevato un polverone sui social. Antonella Fiordelisi insinua che Mikolin Corvaia è una ragazza facile con tale espressione, la dà alla prima sera. Io mi vergogno di essere donna per questo soggetto, ha scritto qualcuno sui social. Ed ancora, Antonella Fiordelisi è lo schifo del genere femminile. Insomma, a molti non è andato giù il fatto che la schermitrice si sia espressa, con termini forti, nei confronti di un'altra donna. Questa è Antonella Fiordelisi che, in linea sottile, dà della poco di buono a Mikol davanti al suo attuale fidanzato. Antonella, tu facevi gli scoop sui giornali con uomini di 60 anni per emergere, è stato scritto da un utente particolarmente adirata per le dichiarazioni della Fiordelisi.Antonella Fiordelisi potrebbe rischiare il posto al grande fratello Vip? La schermitrice campana si è lasciata troppo andare, dicendo, lui mi ripeteva, io con questa persona anche se l'abbiamo fatto, che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l'ha detta proprio lui sotto le coperte. Perché parlavamo a letto di lei come persona come qui dentro? Sì, perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva, e invece il mio Edoardo mi ha detto, no, ma guarda che con me lei subito, appena ci siamo visti. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio, ma così, tanto per sapere. Lui però ripeteva che non c'era più nulla, ha affermato Antonella Fiordelisi, originando un'aspra polemica sul web. Non a caso qualcuno, riportando le dichiarazioni della Vipona, ha scritto, con una persona che ti sei SC asterisco 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 o svariate volte, che te l'ha data la sera appena ti ha visto, tutte le cose che mi hai detto, e cioè subito, non come fa qua la santarellina. Antonella Fiordelisi non perde occasione per attaccare Micol. Non resta che attendere per vedere se tali dichiarazioni costeranno il posto al grande fratello Vip.